Sindaco, alla fine del dato economico è anche un dato politico. La Regione Abruzzo non si presenta all'ultima riunione, quella proprio sull'effrazione europea. Lei dice che la Regione ci ha abbandonato, il commissario non si è mai occupato veramente dell'Aquila. Ma guarda, è un dato di fatto che io sottolineo, non per fare polemiche, ma con una grande preoccupazione. Perché sempre più noi siamo stati, anche quando la Regione era commissario per il terremoto, abbandonati a noi stessi. Questa è la vicenda della possibile effrazione nei riguardi della soppressione e del pagamento di una parte delle tasse per totti anni. È una questione sulla quale l'Europa ha posto lo sguardo su Abruzzo, Marche, Molise e Unger. Ebbene, quando c'è stata la riunione, le altre Regioni sono andate al Governo a dire al Governo che deve fare una battaglia decisiva, addirittura molto più nobile e più seria che quella delle quote latte. L'Abruzzo non è andato. Eppure è una cosa decisiva per la sopravvivenza nei decenni futuri dell'Aquila. Perché? Perché non sta nelle corde. Il decreto che è stato fatto per il De Minimis, che non è zona franca, ma è De Minimis, è stato fatto con alcuni errori, insufficienze, alcuni aspetti sbagliati e non chiari. Due questioni. Una, il Governo non può continuare a fare atti senza parlarne con noi quando scrive, perché la situazione è complessa, conosciamo solo noi o i tecnici, Aquilani, gli ordini professionali e così via. Seconda, il Commissario Chiodi, era ancora Commissario, non ci ha mai gettato uno sguardo su questa cosa. Il dato politico, quindi, è che noi in questo momento siamo come nucleati all'Abruzzo. Vale a dire, è come se un genitore non seguisse il destino di un figlio. Questo è un dato politico, a me preoccupa molto e io non voglio fare attacchi. Insomma, chiederai alla Regione di Borsi il problema. La Regione si deve prendere il problema che abbiamo bisogno di una legge di alcuni, diciamo così, interventi normativi, legislativi, per quanto riguarda la ricostruzione, soprattutto i centri storici e così via. Cioè, per la Regione Abruzzo il terremoto non esiste, non è mai esistito. E quando è esistito, come col Commissario Chiodi, è stato un fastidio per cui fare il minimo, fare il minimo, proteggendo se stesso, anziché pensato da gente, fino al punto di essere stato licenziato su due piedi dal Governo, appena è cambiato il Governo e ha preso un esame alla seduzione aquilana. La situazione invece adesso, dal 15, non c'è più il Commissario? Come pensate appunto di intervenire? Ma guardi, io oggi è 25. Aspetto questi altri cinque giorni, entro i quali il Governo dovrebbe fare, alla luce di un'ordinanza che uscirà, io già potrò vedere il testo, che dice che passa tutto ai vari enti, dicevo io spero dal 1 di ottobre al 2 di ottobre di avere una contabilità speciale. A questo punto, alla luce di questa contabilità speciale, io ritengo di poter avviare tutto quello che Chiodi non ha fatto a partire dal 2012. Noi abbiamo decine di appalti, ad esempio di edifici pubblici pronti a partire, abbiamo l'Ater che è bloccata per mancanza di rasterimenti, i cimiteri che sono bloccati, faremo la quarta ricorrenza dei defunti, ancora con i cimiteri in quello Stato, perché non ci hanno girato i cinque giorni e così via. Io spero immediatamente dal 1 di ottobre, se avrò la contabilità speciale come io auspico e come dovrebbe avvenire, immediatamente nel giro di un mese far partire appalti, cioè recuperare il tempo che Chiodi e Fontana hanno perso inspiegabilmente.